Con Terna Forward, Terna vuole investire in tutte quelle startup che possono aiutarla nel suo ruolo di guida e abilitatore della transizione energetica. Con Terna Forward, Terna vuole investire in tutte quelle startup che possono aiutarla a disegnare il futuro del sistema elettrico. In particolare abbiamo quattro ambizioni. La prima è quella di investire in soluzioni che ci aiutino a gestire l'incertezza derivante dall'evoluzione del sistema elettrico. Una seconda ambizione è quella di investire in tecnologie che ci aiutino a rendere la rete sempre più resiliente e affidabile. Un'ulteriore ambizione sulla quale lavoriamo tantissimo è quella di trovare soluzioni che aiutino i nostri colleghi a lavorare con una maggiore sicurezza, pur garantendo sempre gli stessi standard di efficacia ed efficienza. Ultimo ma non ultimo, con Terna Forward cerchiamo tutte quelle soluzioni che aiutino i nostri colleghi e li supportino nel cosiddetto nuovo modo di lavorare. E quindi con Terna Forward vogliamo supportare tutte quelle startup e investire in tutte quelle startup che ci possono aiutare in questa direzione.